Ehi, 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 ma che fai? Sto solo cercando di sbalordirti. Se vuole sbalordirmi si trovi un lavoro. E la smetta di sbavare sulle mie scarpe. Oh, forza ragazza, preghiamoci, presto! No, non fate storie, tu poi... Non posso crederci, Jasmine! I vicini stanno traslocando. Sai che finalmente si sono stancati di tutti questi terremoti. Le scossettine se ne vanno. La polizia e i vittiri del fuoco chiedono a tutti di non usare... Pesaro parlano del terremoto a telegiornale. Ehi, Steve! Amore, come stai? Che sei andato a fare là fuori? A sparare agli alieni. Hai sparato agli alieni, eh? Ti credi un duro, non è vero? Avanti, girati, che hai beccato. Forza, gira, di gira, di gira... Forza, boomer, vieni, ti do qualcosa da mangiare. Attento! Vado a prendere il giornale. D'accordo. Oh, 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 oh. Tesoro, vuoi un po' di caffè? Tesoro? No, no, no!